Con noi a Ecofuturo 2015, il professor Maurizio Farui dell'Università di Trento, membro anche del Comitato Scientifico di Ecofuturo, a cui chiediamo quali sono gli ostacoli principali nella diffusione del geotermico nel nostro paese. Secondo me sono legati fondamentalmente alla conoscenza e alla divulgazione. Considera che pochi anni fa, quando venivano introdotti impianti di riscaldamento a pavimento, la gente, soprattutto gli installatori, non era abituata a installarli, consigliava di mettere gli impianti tradizionali termosifone, perché? Perché sapevano che si facevano in un certo modo, conoscevano come si facevano, e dopo però che hanno imparato, finalmente hanno installato, adesso installano dappertutto impianti a pavimento. Se adesso chiedi a qualcuno di installarti un impianto geotermico, se non l'ha mai fatto te lo sconsiglia, ti dice ma è proprio sicuro, ma ci metta una caldaietta gas vicino che non si sa mai, che magari si ferma, eccetera, eccetera, perché non c'è ancora l'abitudine. Su questo secondo me dovrebbero intervenire gli enti pubblici, che dovrebbero fare da palestra, da scuola, dovrebbero stimolare l'installazione di impianti, tra virgolette, nuovi, perché non sono nuovi, sono un po' innovativi, ma sono già assodati da parecchio tempo come tecnologia, e su questo poi ci sarebbe una diffusione molto maggiore. Quindi un problema più culturale, di resistenza all'innovazione che non tecnologico? I problemi non sono mai tecnologici, i problemi sono economici, culturali, psicologici, amministrativi, sono di tantissime varie forme, tecnicamente si possono superare e la tecnologia del geotermico ormai è talmente avanzata che è molto affidabile, molto sicura e molto economica, tra l'altro, perché poi viene incentivata con i titoli di efficienza energetica, con altri incentivi e quindi è molto conveniente. Non ricordo male, tu facevi qualche tempo fa la proposta di introdurre l'educazione ambientale come materia scolastica nelle scuole, nella campagna. Ci sono delle educazioni che sono addirittura negative, secondo me, perché fanno educazione stradale, educazione sessuale positiva invece, potrebbero introdurre anche l'educazione energetica, perché soltanto con il cambiamento del comportamento puoi risparmiare un 30-40% di energia, soltanto modificando le abitudini, comportandoti in un certo modo, utilizzando le strutture con certi criteri, insegnando anche a guidare in un certo modo come risparmio energetico, e questo fa la differenza, la differenza è culturale, non è tecnologica, e la tecnologia ci sono.